La Grecia e lo sport Un elemento veramente unificante fra i greci era lo sport. Il nuoto, l'equitazione e l'uso delle armi erano attività comuni a tutti gli uomini. Esse erano unite anche alla caccia, che da poco non aveva più una funzione fondamentale per l'alimentazione ed era diventata un'attività di intrattenimento. Inoltre, sotto le spoglie dell'atleta, si celava anche una specie di religione della forza, della bellezza e della salute. I giochi greci si dividevano in privati, locali e panellenici, cioè aperti a tutti i greci. I giochi panellenici erano delle vere e proprie occasioni per riunirsi con persone di altre città della Grecia. Quattro erano questi giochi. Le Olimpiadi a Olimpia, le Pizzie a Delphi, queste due gare avvenivano ogni quattro anni. Mentre i giochi ismici a Corinto e le Nemei a Nemea, ogni due anni. Riservate ai soli greci, dai giochi erano escluse le donne e gli stranieri. Le gare principali erano la corsa, breve, su quasi 5 km, oppure corta, di meno di 200 metri. C'era poi il Pentathlon, che era formato da 5 gare in 5 diverse discipline. Il salto in lungo, il lancio del disco, il lancio del giavellotto, la corsa e la lotta. Altre discipline erano la lotta, il pugilato e il pancrazio, cioè lotte e pugilato assieme, in una forma spesso assai cruenta. Infine c'erano la corsa con i cavalli e la corsa degli opliti, cioè uomini armati di tutto punto. In occasione di questi giochi venivano sospese le guerre e si concedevano dei salvacondotti per permettere agli atleti di recarvisi. I vincitori venivano esaltati nelle loro città con poemi e canti in loro onore. La stessa datazione fu regolata in base ai primi giochi di Olimpia, nel 776 a.C., usanza che continuò per 12 secoli fino all'affermazione del cristianesimo. Nel 393 d.C., l'imperatore Teodosio, d'accordo con il vescovo di Milano, Ambrogio, vietò i giochi in quanto legati al paganesimo.